Chiara Scardino Un altro ragazzo deceduto sul colpo dopo uno scontro frontale. Si tratta di un turista svizzero, Boris Nikolic, 34 anni, era alla guida di una BMW. Lo scontro con una Mercedes a bordo, tutti i ragazzi rimasti feriti. Un inferno di lamiere contorte, sirene di ambulanze, vigili del fuoco a lavoro per estrarre i feriti e la triste consapevolezza che per il 34enne non ci fosse nulla da fare. Qualche ora dopo, stesse scene di disperazione a Porto Cesario nei pressi della rotatoria che conduce a Lido Tabù. Chiara, giovane studentessa leccese nel liceo classico Palmieri, stava rientrando nella sua abitazione estiva a Porto Cesario a bordo della sua Vespa quando un'opel corso ha condotto da un 24enne di origine marocchina. L'altra volta, e la sbalzata sull'asfalto, dopo averla violentamente tamponata, l'uomo era insieme ad un connazionale, nonostante indossasse il casco, Chiara è morta sul colpo. I carabinieri di Campi Salentina hanno sequestrato i mezzi coinvolti ed ora dovranno capire esattamente cosa sia accaduto. Ma gli incidenti sono continuati. All'alba un gruppo di amici che ne entrava in città si è schiantato con l'auto contro il guardrail sulla Melendugno Vernone. A Scorona invece un'altra auto si è ribaltata più volte su se stessa. Grazie a tutti.